Buongiorno e bentrovati dal Tg Flash. È stata discussa in Parlamento una question time sulla situazione migranti a Ventimiglia. In aula è intervenuto il deputato ligure Stefano Quaranta che ha definito inadeguato il ministro dell'interno Angelino Alfano. Sentiamo. L'allestimento di un campo attrezzato presso il Parco Roia è un primo passo verso una presa di coscienza che spero possa migliorare la situazione ad oggi estremamente grave. A parlare è il deputato di sinistra italiana Stefano Quaranta che alla Camera ha discusso con il sottosegretario all'interno la question time sull'emergenza che da oltre un anno sta vivendo Ventimiglia, in particolare dopo la chiusura del centro d'accoglienza temporaneo, gli sgomberi e l'attività repressiva successiva. Ci sono voluti tre mesi, due interrogazioni presentate alla Camera e diversi appelli di Caritas, Croce Rossa, Arci e tanti volontari che da mesi cercano di gestire al meglio la situazione migranti a Ventimiglia affinché il Governo alla fine prendesse atto che sia arrivati oltre l'emergenza e sono necessarie azioni immediate. Ha proseguito l'Onorevole Quaranta. Vigileremo che la struttura d'accoglienza sia realizzata in tempi rapidi, ma non possiamo non sottolineare come, ancora una volta, il ministro Alfano abbia confermato la sua inadeguatezza. Intanto è proseguito lo scontro politico tra il partito di Fratelli d'Italia e la senatrice Donatella Albano del PD. Se ha veramente a cuore le sorti dei cittadini della sua provincia e degli operatori turistici del comprensorio in temelio, ha detto Gianni Berrino, membro della segreteria regionale di Fratelli d'Italia, chieda al suo Governo un deciso cambio di rotta nelle politiche sull'immigrazione. Siamo ancora in attesa di una qualche forma di aiuto da parte della Regione, ha risposto polemicamente la senatrice Albano, dal momento che per ora leggiamo solo comunicati stampa da parte dei vari esponenti della Giunta e del Presidente, ma continuiamo a vedere che non si muove foglia. Il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Imperia ha arrestato un pregiudicato di Torino, Marco Bolafio, per furto. L'uomo aveva preso di mira una coppia di anziani di San Lorenzo al Mare, nella cui abitazione si era introdotto per due volte rubando denaro e un cellulare. Il ladro ha commesso i furti incurante della libertà vigilata cui era sottoposto in una comunità terapeutica della Valle Rocha per svariati precedenti penali. Ora si trova agli arresti domiciliari in una comunità del Dianese. E proseguono allacremente ad Andorra le operazioni di sgombero dell'area annessa all'ex residence Ariston. Dopo le ordinanze emesse dal sindaco Mauro De Michelis, i privati hanno deciso di provvedere. Vediamo. Questa pineta che vedete sullo sfondo è la pineta del centro Ariston, un tempo residence Ariston e qui è stata una battaglia di anni. Ad Andorra, il sindaco De Michelis, l'ultima volta che ci siamo visti per questo problema, lei ha emesso delle ordinanze, ordinati privati di sgomberare dei manufatti, altrimenti sarebbe intervenuto il Comune. Che cosa succede e qual è la situazione? È successo che finalmente hanno iniziato a sgomberare, hanno abbottuto tutti quanti i manufatti abusivi e ci hanno chiesto ancora una proroga di 60 giorni per smaltire ciò che hanno abbattuto. Gli ne abbiamo concessi soltanto 20, il 12 di luglio saremo lì a verificare che tutto sia pulito. È una situazione che si trascinava da molti anni e che finalmente incomincia a dare qualche frutto. Tra l'altro qui parliamo di quelli che un tempo erano bungalow, roulotte per i turisti che invece erano diventati una zona di degrado, spesso anche con persone che magari andavano a dormire abusivamente, voglio dire una situazione che poteva anche essere pericolosa. Problemi ambientali, problema di commercio abusivo, problemi di sicurezza, problemi di tutti i tipi. La cosa positiva è che di questi bungalow oggi non c'è più nemmeno l'ombra. La Federazione regionale dell'Unione sindacale di base ha espresso forti polemiche contro l'amministrazione comunale di Sanremo per la decisione di approvare un piano regolatore atto ad abbassare il valore immobiliare del deposito della Riviera Trasporti da 6 milioni di euro a 4 milioni. In questa maniera l'USB critica il fatto che si venga a creare un ammanco di 2 milioni di euro dal patrimonio immobiliare dell'RT. E si è svolta in prefettura d'Imperia una riunione per definire l'organizzazione della bonifica del litorale e dello specchio anqueo antistante piazzale Chierotti ad Arma di Taggia dopo il ritrovamento durante lo scorso mese di giugno di 5 ordigni bellici inesplosi. All'incontro hanno partecipato anche le forze dell'ordine e il raggruppamento subacquei e in cursori le grazie di Portovenere. Sarà ora a breve convocato un ulteriore tavolo tecnico alla presenza del quinto reparto infrastrutture di Padova per acquisire i pareri e le relative prescrizioni tecniche necessarie per la bonifica bellica. Intanto il sito continuerà ad essere transennato e interdetto al transito e alla balneazione. Ed è stato pubblicato il nuovo numero di cronaca di un anno di cronaca. Il volume del gruppo Cronisti Liguri che ripercorre i principali avvenimenti dell'ultimo anno. Nell'edizione del 2015 compresa anche una raccolta dei primi 20 anni di pubblicazioni. A parlarcene è il presidente del gruppo Cronisti Liguri Natalino Famà. Sentiamo. E' stata pubblicata la tradizionale cronaca di un anno di cronaca. Natalino Famà, presidente del gruppo Cronisti Liguri. Questo è un numero speciale perché oltre al resoconto del 2015 troviamo anche una storia importante. Sì, sono i nostri primi 20 anni di storia, cioè dal 1977 al 1996. È un primo passo verso il quarantesimo. L'anno prossimo ci sarà dal 1997 al 2016. Per cui è il compimento del quarantesimo, dei quarant'anni l'anno prossimo. Troviamo le notizie più importanti di quegli anni e le copertine d'autore. E le copertine, fra cui le copertine d'autore, una nota di Ligustro che è passata alla storia quasi perché è stato un tributo di Uzzati anche, quindi di tanti autori Liguri, di tanti anche personaggi del nostro mondo dell'arte. E nella seconda parte troviamo la cronaca del 2015. Che anno è stato? Un anno difficile, un anno complicato sia sotto un profilo internazionale con il fenomeno del terrorismo che ha sconvolto il mondo, la Francia soprattutto, ma anche noi da vicino che ha stravolto un po' le regole di quello che era andare all'estero e muoversi con tranquillità e con serenità. Dal punto di vista Ligure sicuramente la notizia che forse più ci riguarda e più ci ha toccato è quella della scomparsa di una testata, qual è il Corriere Mercantile. L'altra sicuramente è lo shock delle elezioni regionali quando Forza Italia, il gruppo di Forza Italia è riuscito a vincere, a battere il Partito Democratico e le regionali. Un anno che ha visto la Liguria al centro anche della questione migranti, soprattutto nella zona di confine qui in provincia dell'Imperia. Il fenomeno nazionale più rilevante è stato proprio quello dell'accoglienza, di riservare quante e come l'accoglienza ai migranti con tutte, ahimè, le pagine nere anche che ha raccolto questo avvenimento e dall'altra anche 20 miglia in primo piano su scala mondiale perché è uno dei traguardi più prossimi ovviamente alla Francia e quindi a quello che era la libertà di circolazione in tutta l'Europa dopo lo sbarco. E Natalino Famà sarà l'ospite questa sera della nuova puntata di Punto d'Incontro e non dalle ore 21, parleremo di cronaca di un anno di cronaca ma anche del mondo del giornalismo. A seguire ci sarà poi uno speciale sulla Notte Bianca di Costa Doneglia con la festa della bandiera argentina e poi subito dopo un altro speciale dedicato questa volta al raduno delle 500, quindi questa particolare auto entrata nella storia italiana che si è svolto nell'Albenganese a Garlenda. Una serata quindi particolarmente ricca e poi come sempre i telegiornali alle 19, 20 e 30 e 23. Grazie per l'ascolto, appuntamento a questa sera, arrivederci. Grazie per l'ascolto, appuntamento a questa sera, arrivederci.